La quarta del convegno è una minima di quattro anni sul miglio, otto in prima, due in secondo, dove vi è però un cavallo in grande ordine come Andreotto e G e G con Francesco Tufano in salchi, lui è il più gettonato, mezzo meccanico in movimento, ha avuto problemi a Tranticolm, parte piano a Kenatongar, anche Andaluzza e a Mien, anche a Stragò, via la macchina. Si lotta per andare al comando, ne approfitta Annabella che scende lungo i birilli nei confronti di Antigone, va subito in Carburescio Andreotti che punta in avanti, poi e via via tutti gli altri, 14.2 a partire e così al comando è l'allieva di Dinardo che completa la piegata e ci presenta Andreotti. 29.1 ai 400 e Andreotti punta in avanti, pedinata da Astragò. Però per Andreotti per il momento la cosa diventa un po' più dura, poiché l'avversario non manda via. 44.3 da 1.13.8 e Andreotti insiste su Antigone Rab. Penultima curva, si va al completamento del mezzo miglio iniziale. In 59.6 Antigone Andreotti di dentro Annabella di fuori Astragò, poi Andrea Spid di dentro Argo Egral. Si completa il chilometro in 1.14.9.15.3 di frazione. Viene via Astragò con Maione, intanto Antigone allunga, Andreotti da qualche segna di battuta incerta, 14.8.1.29.7.3 quarti di miglio, si avvicina anche Andrea Spid da largo di tutti, ma per il momento Antigone ancora è leggermente in vantaggio, retta da riva Antigone tenta lo stacco, Antigone al comando, ci prova l'avversario, e cioè Annabella, ma a largo indietro in Andrea Spid, lotta incerta, sui cavalli in zona traguardo, Annabella con un sabato De Vincenzo in edizione straordinaria. Seconda Andrea Spid, ottimo per la prossima, e terzo Antigone Rab. Due minuti e mezzo, 1.15.9, veramente in un periodo magico questo sabato di Vincenzo, sta mettendo successi su successi, e questo grazie al suo lavoro certosino che riesce a portare i cavalli sul traguardo. Ecco le immagini, arriva forte Andrea Spid, buona per la prossima, e o Antigone che gli sono mancati gli ultimi metri. 2-1-3, il probabile ufficioso arriva, Annabella, una figlia di Napoleon, sabato De Vincenzo al training, scuderia Freccia Rossa di proprietà, ma in Sarchi c'è lui, sabatino De Vincenzo, nonostante se è domenica.